Ferragosto, tra divertimento e sicurezza a Nocere Inferiore, continuano gli appuntamenti del cartellone estivo promosso dall'amministrazione comunale. Tante le iniziative, molte girano intorno alla Palatella, Panino Ferragostano per Antonomasia. A Via Libroia il 14 agosto si terrà la dodicesima edizione, idea a devozione da Palatella e Omelone Fuoco. Non solo buon cibo gratuito, ha dichiarato il consigliere comunale Umberto Iannotti, ma anche tanta musica. La serata sarà infatti presentata da Lucia e Carmine De Rosa e interverranno i neomelodici Jenny e Nando Mariano. Festa il 16 poi al Casale del Pozzo per San Rocco. Tutto sarà tenuto sotto controllo dai vigili urbani impegnati nel progetto Estate Sicura a Nocere Inferiore. Il progetto Estate Sicura è un progetto che entra a pieno regime da questa metà di mese, con la copertura della presenza di pattugliamento soprattutto nei fine settimana. Il grosso della copertura ci sarà soprattutto nel periodo di settembre.